Lenzo contro Lorien, preparatevi per due minuti di pure azione, statistiche interessanti e tanto divertimento. Segnatevi questa data, 21 maggio, alle 17.05. Lorien e Lenzo si sconderanno in un duello che promette di essere spettacolare. Prima di immergerci nella sfida, diamo uno sguardo alle statistiche che potrebbero influenzare il risultato di questa partita. L'incontro tra Lorien e Lenzo ha prodotto risultati di 1-0 per ben 4 volte nel passato, mentre l'1-1 è stato il risultato più frequente, con 8 partite terminate con questa parità. Ciò rende questa partita ancora più imprevedibile. Se guardiamo le prestazioni recenti, scopriamo che Lorien ha avuto la meglio quando si gioca in casa. Nelle ultime 14 partite casalinghe, Lorien ha vinto 7 volte, pareggiandone 4, mentre Lenzo ha avuto solo 3 vittorie. La differenza a reti è a favore di Lorien, con un impressionante 21-16. Ma Lenzo non sarà da sottovalutare. Durante gli ultimi 28 incontri, Lorien ha vinto 11 volte, pareggiandone sempre 11. Ma Lenzo ha dimostrato la sua forza, vincendo 6 partite. La differenza a reti è molto ravvicinata, con Lorien che si trova avanti di appena due gol, 40-38. Date le informazioni ampie e le statistiche che vi abbiamo fornito, il pronostico nostro è 2-1 per il Lenzo. Ma nonostante gli infortunati, entrambe le squadre sono determinate a dare il massimo in campo. Nel corso degli ultimi 6 anni, Lenzo ha ottenuto 2 vittorie, mentre Lorien ha conquistato 5 vittorie e 3 pareggi. Sarà una battaglia vincente per stabilire quindi chi prevarrà.